Ad Arco credo che tutti sappiano che io non volevo sposarmi, se non che un bel giorno ad anni 47 una solandra mi ha dato la possibilità di convolare a giuste nozze e oltre a convolare con Lucia Redi, mia consorte, ho convolato anche a nozze con la Val di Sole, per cui naturalmente mi sono sposato in Val di Sole e frequentemente vado in Val di Sole perché Lucia ha la sede a Malè. Ma questo mi ha servito per fare il paragone con quella che è la Val di Sole e la Val di Non con il Basso Sarca. Anche parte delle giudicarie si vede e anche il tonale quando si va a Malè. Allora Malè ha 14.500 abitanti, il Basso Sarca, se i miei conti non sono sbagliati, tra Drò, Torbole eccetera, siamo sui 45.000, grosso modo. Bene, quando voi arrivate al ponte di Mostizzolo e poi affrontate la Val di Sole, cosa incontrate? La caserma dei pompieri a Caldès, poi sopra a 100 metri dalla caserma dei pompieri di Caldès vedete la caserma dei pompieri di Terzo Lass, poi fate due chilometri e arrivate a Malè, c'è la caserma dei pompieri a Malè, poi fate 500 metri e c'è la caserma dei pompieri a Croviana, un chilometro c'è la caserma dei pompieri a Monclassico, dopodiché c'è la caserma dei pompieri a Di Maro, poi fate un passo e c'è la caserma dei pompieri a Mezzana e a Pellissano, a Fucine, a Peio, a Versilio. Teatri, ce n'è uno a Folgarida, ce n'è uno a Fucine, ce n'è uno a Peio, ce n'è uno a Di Maro e ce n'è uno a Malè, uno più bello dell'altro, quello di Fucine, piccolino ma è un gioiello, con bellissimi film d'estate, con rappresentazione anche di tipo importante, non sempre, ma qualche volta. Poi voi scendete, prima c'era l'ingorgo a Mezzolombardo, chi arrivava a Mezzolombardo dove andare in Val di Sole era una tragedia, come per noi andare a Roveretto, cosa hanno fatto? Tunnel a doppia canna, a Campiglio per attraversare Campiglio, un dramma, ore ce ne volevano, cosa potevano fare? Tunnel, doppia canna, fatta. Allora mi sono domandato, ma nel Basso Sarca ci sono queste cose? No. Per andare a Roveretto quanto ci impieghiamo? Ci impieghiamo anche un'ora e mezza alle volte, se non due, se per caso c'è un afflusso turistico o una macchina che va forte attraverso. Alle volte mi scoccia parlare della mia persona, ma alle volte mi sembra di essere un veggente. Che cosa è mancato nel Basso Sarca? È mancata la forza politica degli uomini politici della Val di Sole, Mosconi, Kessler, Mengon, Bezzi e altri che non sto a nominarvi, ma persone che hanno fatto la politica nel vero senso perché 14.500 abitanti hanno espresso due presidenti della provincia, uno Keller e l'altro Mengone, 14.500, hanno espresso Pancheri, che non è poco, hanno espresso degli uomini politici che hanno dato tutto a quella anche troppo. Noi invece se facciamo un paragone, pensiamo, pensiamo a Gabriele Santoni, al Pulini, assessore ai lavori pubblici, Molinari, vicepresidente, Malorsini, grande presidente, Angeli, Angeli, Pietra Muratta, quindi Basso Sarca anche lui, Giovanazzi, Benedetti, 15 anni, assessore, Benedetti, 15 anni, 15, non hanno influito sul territorio del Basso Sarca per nulla. Io sarei felice che qualche ascoltatore mi dicesse che non è vero quello che dico. Non abbiamo un teatro, avevamo un cinema, ce l'hanno chiuso, perché un illuminato sindaco, non facciamo ne nomi, l'ha chiuso. Non abbiamo un teatro, le anni che il teatro l'è lì, prima falisce la ditta, poi la ditta, le compensazioni, dietro sta tutto quello che c'è, arriva, c'è un cinema che per modo di dire, io torno in Val di Sole e trovo tutto questo servizio, allora ti domandi, ma questi politici del Basso Sarca che cosa hanno fatto quando sono stati a Trento? Allora la domanda ulteriore è, ma perché la gente non va più a votare? Ci sentiamo alla prossima volta.